Siamo con Andrea Letta di Camera Condominiale, non a caso siamo in Piazza Montegrappa, alle stesse spalle c'è la rotonda. Come mai siamo in Piazza Montegrappa Andrea? Spiegaci questo nuovo progetto sociale che avete avviato. Ma allora, è un progetto di responsabilità sociale nato qualche mese fa, una richiesta in comune per gestire la rotonda di Piazza Montegrappa e grazie a un'azienda locale di Arborocca di Cittiglio, abbiamo potuto fare la rotonda in modo che praticamente rappresentasse il cuore della città. Ogni 3-4 mesi cercheremo di cambiarla e di renderla vivibile, sempre più bella, perché è il biglietto in cui entrano tutti a Varese, quindi il bello deve essere alla portata di tutti.